Ciao ragazze, ciao ragazzi! In questo video vi mostro come realizzare in un minuto questo fantastico sero per il viso. È fantastico secondo me perché è illuminante, lenitivo, idratante, rende la pelle luminosa, sana, molto più bella. Veramente lo utilizzo sempre, mattino e sera, prima della crema per il contorno occhi e della crema per il viso. Si assorbe in due secondi, quindi veramente anche molto molto pratico ed è dato a tutti i tipi di pelle. Poi utilizzando gli ingredienti giusti possiamo realizzare proprio il prodotto perfetto per la nostra pelle, ma nel tutorial poi fra qualche secondo vi indico quali sono gli ingredienti migliori per ogni tipo di pelle. A me piace tantissimo, spero tanto che piaccia anche a voi, fatemelo sapere fra i commenti anche con un pollice in su e seguitemi su Instagram perché tutti i giorni pubblico delle ricette, dei consigli, poi chiacchieriamo tra di noi e vi mostro insomma anche i prodotti che promuovo, i prodotti che secondo me insomma non sono proprio molto buoni, insomma parliamo un po' di tutto. Spero tanto che vi piaccia questo tutorial, fatemelo sapere, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gli ingredienti per i diversi tipi di pelle ve li scrivo nel box informazioni sotto al video. In una ciotolina ho messo la glicerina vegetale che è un umettante e mantiene l'idratazione della nostra pelle. A questa vado ad aggiungere la gomma xantana che è il nostro gelificante, questa polverina bianca, che vado a spargere a pioggia in questo modo. Poi vado a mescolare per circa 10-20 secondi per far sciogliere la gomma xantana nella glicerina. Dopodiché continuando a mescolare vado a versare poco alla volta anche l'idrolato di Amamelis. Io ho scelto quello perché è adatto alle pelli delicate, alle pelli normali, alle pelli che si arrossano facilmente, è tonificante, lenitivo, anti-age. Mescolo per circa 2-3 minuti finché non ottengo un gel come questo. Tutti gli ingredienti li trovate sul mio shop che è www.ateliernaturale.com Vi metto tutto nel box informazioni sotto al video. A questo punto ho ottenuto il gel, aggiungo il conservante, io utilizzo il Cosgard che ci permette di conservare il prodotto per 3-4 mesi a temperatura ambiente. Senza conservante riusciamo a conservarlo per circa un mese. Mescoliamo il tutto. Poi vado ad aggiungere anche la vitamina E. La vitamina E è antiossidante, idratante, nutriente. Quindi va molto bene anche come prodotto anti-age ma anche idratante e illuminante. Infine aggiungo l'olio essenziale. E ora vado a travasare il tutto nel contenitore finale, quindi con l'aiuto di un piccolo imbuto. Ora vi mostro anche l'applicazione del prodotto. Mi raccomando, prima di utilizzarlo, ricordatevi sempre di agitare bene il prodotto. Per miscelare appunto meglio tutti gli ingredienti. Lo agitate giusto qualche secondo. E ora vi mostro l'applicazione sul mio viso. Quindi sul viso struccato vado a mettere poco prodotto. Lo stendo bene sul viso e anche sul collo, il décolleté. Lascio assorbire per qualche secondo. Impiega veramente pochissimi secondi per asciugarsi. Poi applico la crema per il viso e la crema contorno occhi. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e lasciate un commento qui sotto. Ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!